Da oltre 40 anni, Facilfrutta c'è per te. Da qualità e risparmio, Facilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Facilfrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia. Caldo intenso, protagonista anche in questo weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 25 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato, il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso. Nel pomeriggio poi sarà possibile qualche locale piovasco sulle zone montane. Probabilità bassa invece di occasionali fenomeni su quelle pede montane. Clima affoso e temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli-Venezia-Giulia. Anche in questo caso bel tempo, cielo poco nuvoloso, più sereno sulla costa. Locale variabilità invece in montagna, dove saranno possibili rovesci temporaleschi a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino-Alto Adige. Anche qui le condizioni saranno stabili, con un ampio soleggiamento su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime intorno ai 29. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci! Da oltre 40 anni, Facilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Facilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Facilfrutta c'è per te.